Salve, salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Mobili Sto rispondendo, cosa fare se il materasso fa sudare? Allora, sostanzialmente possono essere due le ragioni per cui il materasso fa sudare o all'interno avete preso un materasso con del memory normale ed quindi vi sta producendo calore perché il memory normale ha le bollicine chiuse perché viene schiumato in ebollizione e quindi produce calore e accumula umidità oppure avete un materasso sopra con un rivestimento di strecce cioè un rivestimento sintetico che vi sta producendo, vi sta dando come conseguenza questo fastidio Allora, l'alternativa qual è? L'alternativa è comprare un topper con del memory marine il memory marine è un memory ad alta traspirabilità, schiumato a freddo quindi un sistema completamente differente o in alternativa ancora potete prendere un materasso scusatemi, un coprimaterasso in cotone Allora, l'alternativa è un'alternativa